E l'aspettavo un po' più biondo, è arrivata la fine del mondo Può anche darsi che sia stato poco attento alla tv Mi è sembrato di capire che domani arriverà Gesù Con suo aereo personale vuol vederci tutti alle otto Viene giù per fare conto e qualcuno se la faccia sotto Dagli alberghiore sta scappando tutti per le scale C'è chi domanda ad amici e parenti se beccare è normale C'è chi prenota un freno, un monsignore o meglio un cardinale Vogliono tutti quella raccomandazione giusta e un po' speciale Grazie a tutti Grazie a tutti